Mostra nazionale dei vini passiti e da meditazione. A Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana, il 30 aprile e primo maggio, degustazioni guidate dal miglior sommelier nazionale 2019 Valentino Tesi, mostra mercato, visite guidate, banco d'assaggio con i sommelier di AIS, mercato contadino e aperitivi serali con musica dal vivo. Nei ristoranti aderenti all'iniziativa troverete menù degustazione accompagnati da vini locali. Un evento dell'amministrazione comunale La Proloco di Volta Mantovana.